Si va con questa finale, addio buono per Cazzari, al suo interno Siragusa, Bellinassi e La Fontana, a curva solita, molto solida di Dalia Cazzari, all'interno si mostra per rimontare con Fontana e Siragusa, Dalia Cazzari nettamente davanti, prova a rimontare l'interno da Fontana, poi Siragusa, Cazzari, Fontana e Siragusa, 22,88 ufficiose per Cazzari.